E allora fate l'applauso per il gruppo di The Witcher Cosplay Italia! E allora fate l'applauso per il gruppo di The Witcher Cosplay Italia! E allora fate l'applauso per il gruppo di The Witcher Cosplay Italia! E allora fate l'applauso per il gruppo di The Witcher Cosplay Italia! E allora fate l'applauso per il gruppo di The Witcher Cosplay Italia! Sous-titrage ST' 501 Grazie a tutti. E l'applauso dai ragazzi di The Witcher Cosplay Italia.